Ciao, mi chiamo Chiara, sono qua come tirocinante. Ho voluto scegliere Casa Lamar perché è una struttura completamente diversa dalle quali ho lavorato fino adesso. Da una parte mi incuriosiva, allo stesso tempo però ero un po' timorosa perché comunque sono patologie che non ho mai potuto, cioè non sono mai stata a contatto. Però è stato un impatto positivo perché comunque sono stata accolta molto bene sia da tutta l'equip, da tutti gli operatori, gli infermieri e accolta molto bene anche da tutti gli ospiti della struttura. Ho trovato persone molto collaborative che mi hanno aiutata a svolgere il mio compito e è stata sicuramente un'esperienza molto positiva perché mi porto via un bel bagaglio da qua. Spero in un futuro di riuscire ancora a collaborare lavorativamente con una struttura comunque in questo ambito e vi ringrazio tutti perché sono riuscita a lavorare veramente con tanta diseguitura.